a che è successo che sei incazzato? è perché stai a tre ore che stai dicendo che tua zia io ho spazzato a terra e tu hai detto che se avessi spazzato tua zia avrebbe trovato molta molta più polvere bravo ma ma hai detto quattro volte, l'ha detto quattro o cinque volte, io preparavo il liquido e per cosa devi parlare un quarto d'ora che diceva sempre mia zia spazzava ti avrebbe fatto trovare più di quello che tu hai fatto ma vuoi salutare? saluto tutti i follower di Peppe Channel ragazzi io ho capito ora perché siete i follower di vento ma ho capito perché l'ho seguito, l'ho capito ah ok ciao